ebbene sì ragazzi miei sono tante le voci che stanno circolando nelle ultime ore ma tutte vanno dalla stessa direzione ovviamente prendete sempre quello che vi sto dicendo con le dovute pinze perché non c'è nulla di ufficiale ma quando la notizia rimbalza così secondo me qualcosa di vero sotto c'è a cosa mi sto riferendo probabilmente lo avrete già capito dal titolo ma siccome sono una persona educata prima vi saluto ciao e bello a tutti da me vi chiedo di lasciare mi piace per supportare i miei contenuti più mi piace lascerete e più ovviamente di giorno in giorno andrò a riempirvi di contenuti calcistici iscrivetevi al canale se non volete perdervi ovviamente tutti i miei nuovi contenuti e attivate la campanella così ogni volta vi arriva la feed sul cellulare e non vi perdete neanche un contenuto vi ricordo che ho anche un secondo e un terzo canale youtube secondo canale youtube canale di calcio completamente parallelo a questo ma sto parlando anche di formula 1 e moto gp terzo canale canale non di calcio dove sto tornando di prepotenza attivo nei prossimi giorni arriverà un contenuto detto questo ragazzi miei che cosa sta trapelando dobbiamo fare un passo indietro e vedere le ultime due partite della juventus de mezzo c'è stata la sosta tra le due partite quella precedente con un errore clamoroso di arthur passaggio orizzontale gol del benevento benevento che clamorosamente si riesce a portare a casa la vittoria contro i bianconeri all'allianz stadium perché non si chiama più juventus stadium per chi non lo sapesse e poi la partita di ieri tra torino juventus non una partita qualunque ragazzi stiamo parlando ovviamente stati del derby della lanterna non c'è più o più a parlare derby tra torino juventus allora o derby capitolino e derby della non so che me sta succedendo i stori incoglionendo le sconfitte della roma mi stanno facendo diventare un deficiente il pareggio tra torino e juventus maturato ieri per come è anche maturato ovviamente il pareggio la dirigenza ma un po tutti si stanno facendo due domande anche lo spogliatoio all'interno dell'ambiente juventus per capire quello che deve essere il loro il loro futuro se fino a qualche tempo fa paratici e la dirigenza appoggiava pienamente andrea pirlo e diceva anche lo stesso pirlo lo ha confermato vi ricorderete le dichiarazioni sono qui per un progetto a medio lungo termine quindi è lui stesso che non si sentiva in discussione a prescindere dai risultati di questa stagione ma le cose stanno cambiando fortemente perché non so se avete sentito ieri le dichiarazioni di paratici e a domanda diretta sul futuro di pirlo hanno iniziato a ritrattare perché se nedved se lui stesso dicevano pirlo non è in discussione per questa stagione e vogliamo aprire un ciclo con lui ieri paratici ha detto ragioniamo partita dopo partita ed è ben diverso da quello che è stato detto ma come è giusto che sia perché se le cose vanno e continuano ad andare sempre male è ovvio che il primo a rimetterci è proprio l'allenatore ragazzi non si possono licenziare i calciatori per le prestazioni negative della squadra ovviamente il capro espiatorio è sempre l'allenatore che li mette in campo sceglie le tattiche e stava dire sceglie le tecniche e via dicendo è ok quindi ne stanno parlando tutti il futuro di pirlo è appeso a un filo e questo filo è in napoli la partita di recupero con il napoli che finalmente se non sbaglio si giocherà mercoledì deciderà il futuro di andrea pirlo c'è chi dice che pirlo resterà sulla panchina della juventus questa stagione solo ed esclusivamente se vincerà contro il napoli in caso di pareggio o di sconfitta ragazzi miei c'è chi già sta parlando addirittura di un esonero in questa stagione cosa che non si sentiva fino all'altro giorno cioè pirlo fino alla fine della stagione secondo tutti ci sarebbe arrivato proprio a occhi chiusi a mani basse e i risultati stanno ovviamente facendo la differenza in questo senso sarebbe clamoroso sarebbe clamoroso ma sapete per quale motivo vogliono fare questa mossa perché la juventus sta iniziando a capire che se continua così manco la champions league prendono e ormai lo scudetto è andato e credo che sia abbastanza palese no le possibilità scudetto ormai non è che sono ridotte allo zero stanno sotto lo zero a mio modo di vedere c'è molte più possibilità eventualmente il milano che comunque dista parecchi punti dalla stessa inter e poi l'inter c'è un'altra partita da recuperare potenzialmente quando ha più 11 dal milano dove se vince col sassuolo la paura il timore di non riuscire a qualificarsi per la champions league per una squadra come la juventus che negli ultimi nove anni ha stradominato sta facendo pensare alla dirigenza bianconi era proprio questo se se pirlo non ottiene il risultato contro napoli va mandato via e ragazzi miei lo sapete io già ve ne avevo parlato un paio di settimane fa se non vado errato forse tre massimo sapete a chi stanno pensando stanno pensando a massimiliano allegri e che c'è chi non c'è più a parlare c'è chi dice che i contatti ci sono già stati tra gli agnelli e massimiliano allegri e si dice che allegri abbia dato la sua disponibilità a prendere la juventus in corso per rincorrere ovviamente l'obiettivo champions league per questa stagione e poi ripartire la prossima stagione proprio da lui per cercare di tornare grandi per aprire un nuovo ciclo attenzione però e questa è una precisazione che va fatta perché tutte le testate giornalistiche sportive più importanti ne stanno parlando l'idea numero uno per la juventus è zinedine zidane ma ovviamente ragazzi miei zidane attualmente è legato a real madrid e quindi la situazione è molto più complessa la prima scelta sarebbe lui e ovviamente la scelta tra virgolette chiamate me lo ripiego è massimiliano allegri allegri è parecchio che è uscito fuori dai riflettori e da quel che abbiamo tutti capito dichiarazioni sue ha voglia di tornare ad allenare non ha escluso non ha escluso un ritorno in italia e quindi io ovviamente lascerei aperto qualsiasi spiraio in tal senso e richiamare io vorrei saperlo da voi richiamare allegri adesso a stagione in corso quasi terminata per sostituire pirlo e per provare a rincorrere l'obiettivo champions league secondo voi come ve la considerate come come mossa certo è che se pirlo continua a fa peggio ovviamente il rischio inizia a diventare pesante di non entrare in champions league però vorrei sapere la vostra qui sotto nei commenti mio parere personale se pirlo continua a fa schifo perché diciamoci la verità sta facendo veramente male soprattutto nelle ultime nelle ultime due in realtà però col benevento non ti puoi permettere di perdere col torino in realtà secondo me ci può stare manco col torino perché il torino cioè sta a lottare per salvarsi ragazzi miei e soprattutto il pareggio nasce da errori gravi fatti da scesni fatti da kurusevski e via e via dicendo è ovvio che la società deve deve ragionare per cercare di raggiungere l'obiettivo ormai diventato minimo stagionale come lo vedrei massimiliano allegri lo vedrei benissimo alla roma ma lo vedrei benissimo onestamente in qualsiasi in qualsiasi squadra forse quello che si sta rompendo all'interno degli equilibri di spogliatoio lui potrebbe tornare e dare ordine ve lo ripeto prendete questa notizia come come un'indiscrezione però non non pensate che non sia vero secondo me qualcosa sotto di vero c'è e lo stesso parati ci lo ha lasciato intendere se ragioniamo partita dopo partita significa che saprò assieme a pirlo stecca pirlo se ne va e se pirlo se ne va con chi lo sostituisci non è facile trovare un traghettatore disposto a prendere la juventus di livello non è che te lo permette te prende che ha paio da spalletti non lo so però fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti mi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti i miei canali youtube profili socialista che ho preso tutto in descrizione contenuti consigliati chi vivrà vedrà alla prossima con un nuovo video ciao ragazzi